Paisaggio spettrale, morte, terrore e distruzione, le ferite inferte a Murso, borgo di Oklahoma City spazzato via da uno dei più devastanti, tornado degli ultimi decenni. Sono tutte lì, a poco più di 24 ore, dal disastro che ha colpito al cuore l'America. Il bilancio, finalmente ufficiale, ridimensiona le cifre di ieri. 24 morti, tra loro 9 bambini, 7 sono rimasti uccisi in quello che è diventato il luogo simbolo della tragedia, la Plaza Towers Elementary School, due in un'altra scuola elementare poco distante. Erano rimasti lì perché quegli edifici erano considerati sicuri, costruiti in base a precisi criteri antitornado. Purtroppo la potenza del Twister è andata oltre ogni immaginazione. Nei suoi 40 minuti di furia distruttrice ha spazzato via tutto ciò che ha trovato, lasciando dietro di sé solo rovine. 240 sono invece i feriti. Secondo il capo dei Vigili del Fuoco di Mur, si tratta di un bilancio pressoché definitivo. Siamo sicuri al 98% che non ci siano più persone intrappolate sotto le macerie, ha detto. Considerando terminate di fatto le attività di ricerca dei dispersi, andate avanti senza sosta fin da dopo il passaggio del tornado e che hanno permesso di estrarre i vive da ciò che restava delle proprie case, 101 persone. Un bilancio per fortuna decisamente molto meno pesante di quanto comunicato inizialmente, quando le autorità avevano parlato di 91 morti. In seguito è stato spiegato che si è trattato di un errore dovuto al caos di quei momenti che aveva portato i soccorritori a contare alcune vittime due volte. Numeri ridimensionati dunque, merito della prevenzione fatta in uno stato che a questi fenomeni è purtroppo abituato, del sangue freddo e dell'esperienza della gente e del preavviso di 16 minuti dato dal servizio meteorologico. C'è stato addirittura chi ha parlato di un lasso di tempo troppo breve. In realtà si tratta di un intervallo doppio rispetto alla media che in questi casi oscilla tra gli 8 e i 10 minuti. Polemiche spente sul nascere, anche perché adesso è già il momento di ricostruire. Secondo le prime stime, i danni ammonterebbero a 3 miliardi di dollari, forse 3 miliardi e mezzo. Gli abitanti di Moore devono sapere che il paese sarà con loro fino a quando ce ne sarà bisogno, ha dichiarato Barack Obama.